Grazie 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 Mi va bene, ha fatto mezz'oretta bene, ha scattato, ha tirato, si è mosso via Credo che lui sia pronto però non è pronto al 100% come condizione, questo è fuori di dubbio però essendo un professionista ci metterà pochissimo a riconquistarla Buongiorno Per loro è una partita fondamentale, per noi può essere fondamentale in un altro senso quindi abbiamo bisogno di dare il nostro meglio so già che sarà un ambiente caldo ma questo non ci deve spaventare, siamo una squadra matura in questo senso Grazie